Per una manciata di secondi a Fano non spetta il primato del primo nato d'Italia nel 2019. Bilal, un bel maschietto di 3,2 kg, secondo genito di una giovane coppia di origini marocchine ma da tempo residente a Fano, è nato un minuto dopo la mezzanotte e non l'ha spuntata invece su Michele, che è nato dopo una manciata di secondi dallo scoccare della mezzanotte. Il primo nato è nato a 0,1 minuto, pensavamo di essere i primi a livello nazionale, però abbiamo saputo dalla cronaca che a Potenza è nato dopo 20 secondi dalla mezzanotte, non so come abbiano contato i 20 secondi, però siamo soddisfatti. Abbiamo un'organizzazione fatta su due presidi, Fano Pesaro, che ha prodotto quest'anno 1.428 parti. Approfitto in questa intervista anche per ringraziare anche tutta l'organizzazione di Marche Nord, che ci ha supportato sia con il personale che con anche delle nuove tecnologie, oltre che in ostetricia anche a livello ginecologico. A Fano e quindi a Marche Nord spetta comunque il primato a livello regionale del primo nato nel 2019. L'ultimo nato invece nel 2018 nella nostra azienda sanitaria è una bella bimba di 3,150 kg, Isabella, nata alle 5.15 dell'ultimo giorno dell'anno, figlia di Filippo e Francesca, anch'essi giovanissimi e felicissimi neogenitori di Fermignano. Sicuramente è stata un'esperienza molto bella, è arrivata con qualche giorno di ritardo, ma sicuramente l'abbiamo aspettata tanto ed è una grande gioia. Ma per il reparto di ostetricia e ginecologia è stato un capodanno di intenso lavoro, perché ben quattro sono state le nascite registrate a Fano nella giornata di ieri. Oltre a Isabella sono venuti alla luce tutti con parto spontaneo, in ordine di tempo Luigi Montanari, Andrea Perciun e Conti Natan. Insomma, un bel modo per iniziare il 2019.